Filippo Timi, un Don Giovanni veramente dissacrante, rivoluzionario, c'è di tutto, scandaloso anche. Allora, intanto perché questa rivisitazione? Allora, guarda, io stavo lavorando al male, prima di fare questo spettacolo qui, in cui stavo creando appunto una storia sul nazismo, eccetera. Studiando poi, contemporaneamente mi chiesero un'intervista per la Scala, perché stava debutando con il Don Giovanni, quindi io che lo conoscevo sommariamente, ho cominciato per non far brutta figura a studiarlo un po', e cavolo, io ho scoperto che lui è il male, anzi, meglio, peggio, è il male che seduce. E quindi tutta questa ricerca sulle debolezze umane, appunto, no? l'ho riscontrata in questa storia di quest'uomo mai sazio, che sfida Dio e sfida le convenzioni, eccetera. Ma io non posso scappare, non posso scappare senza spritz, senza sigaretta, senza musica, non con questa musica. Non con questa musica signora, eh? Ma no, una fuga senza la musica giusta, è come un chihuahua senza sciui. Perché questo ha volontà anche di distruggere il seduttore? Perché? Proprio per ancora dimostrare, ancora più forte, che la seduzione va oltre anche alla sporcizia dell'umano. Una delle prime improvvisazioni è portarlo in bagno, per fargli fare la popò. Perché è molto importante per un attore il non vedere il ruolo come qualcosa di oltre o comunque di migliore, no? Per incarnare Amleto, che ha un ruolo, giuro, enorme, più grande, però per incarnarlo, per dargli carne, vita, è molto importante il metterlo in tutte quelle condizioni umane piccole, come appunto andare in bagno, provare un sentimento di odio, che mangia, come dorme, come starnutisce. Capito? Quindi, secondo me è importante, più il mito è alto e più per comprenderne la natura bisogna abbassarlo. Siamo tutti a rischio di don Giovannismo. Capito?